Musica Hai visto che bei ragazzi ci abbiamo? Allora che cosa facciamo oggi? Oggi facciamo shooting Che cos'è lo shooting? E' un modo di dire fotografie Facciamo le fotografie di presentazione del film Un fantastico che vai Un fantastico via vai È un viaggio all'indietro nel tempo Un uomo sposato da 16 anni Con due cemelle Una bellissima moglie Che però per un fraintendimento Riesce a tornare E a vivere Andare a vivere in una casa di studenti Di studenti 23 anni 24 anni Per cui due mondi Due mondi a confronto Quello dell'esperienza Ma anche della nostalgia Interpretato dal mio personaggio E quello invece di un futuro Assolutamente tutto da scrivere Interpretato dai ragazzi Che stanno andando all'università E c'è uno scambio Andare a avere sicuramente L'esperienza E anche questa nuova energia Che il mio personaggio mette In questo incontro Dà a questi ragazzi Che invece regalano Momenti di tenerezza Di grandi punti interrogativi E però di grande gioia Al mio personaggio Che è Arnaldo Nardi Ci si vede la trippa Stomago La trippa Avanza Avanza Vieni con me Avanza